abbiamo iniziato per davide ciò monica 5 4 3 2 1 dunque davide mi si mostra vestito da prestigiatore con un mazzo di carte e fa questi giochi con le carte come se fosse un'armonica e poi le carte vengono come risucchiate in una specie di nebulosa un po' come se fosse al di là del tempo, dello spazio una nebulosa viola blu ti dà l'autorizzazione? sì con un sorriso molto aperto ok è un prestigiatore un gran mago un gran mago vibrazione 69 miliardi consapevolezza 176 anima 58 vite 2014 cervello 10.7 suscettibilità ipnotica tra i 63 e 65 perché vedevo 70 73 perché non è un problema vero? se lo vuole lo fa non ci ha pensato diciamo molto interessante tanti brevidini abbiamo un gran mago quindi ci divertiamo ci sono ci sono le entità eteriche con cui il gran mago gioca allora mi fa vedere allora mi fa vedere lui che è agganciato a un paracadute colorato e atterra sulla schiena di un coccodrillo questo coccodrillo questo coccodrillo sprofonda nelle paludi e quindi Davide per un certo momento vive il buio e il freddo della palude poi come quando ne ha sufficienza si riaggancia energeticamente a questo paracadute staccandosi dal coccodrillo quindi lo lascia lì nella palude e lui ritorna ad emergere ad affiorare sulla palude verso la luce verso il cielo liberandosi questo lo fa tante volte ogni tanto e lo fa quando gli serve quando gli serve quindi diciamo un cocco paracadute gioco gioco poi e come entità eteriche io vedo questo coccodrillo qua edl ce ne sono due sono due entità mentali più che mai in questo caso opportunità io le vedo entrambe che oscillano tra il 2 e il 3 la prima è Noè e vedo proprio lui come fosse un Noè che crea questa arca dove vorrebbe ospitare le persone per il nuovo mondo chiamiamolo così no in un certo senso per preservare alcune persone e creare insieme a loro qualcosa di particolare di nuovo di elevato di spiritualmente spesso però appunto è come se volesse mettere all'interno di questo nuovo mondo anche persone che non sono propriamente pronte per farlo però lui per affetto a volte anche per un senso di solitudine vorrebbe portarle livello livello e sì entrambe anche l'altra di 2 e di 2 e 3 diciamo come livello l'altra è opportunità hai detto sono entrambe rappresentano delle opportunità però l'altra si chiama millennium lui che è nato nel nuovo millennio ha difficoltà a rapportarsi con gli altri millennials e a volte questo lo vive un po' con sofferenza con solitudine perché sente proprio spesso una forte discrepanza con la maggior parte di loro ci sono degli impianti allora io ne vedo uno solo ed è come una specie di spina è conficcata nel cuore che in fin dei conti davide vive all'insegna del cuore quindi effettivamente questo hanno colpito in alcuni momenti è come se entrasse più in profondità dentro al cuore e si genera una specie di scarica elettrica corrente elettrica che va verso l'alto verso cioè la ghiandola pineale ma solo in alcuni momenti progetto di davide allora asso di cuori nero nella nella in un mazzo di carte vero non esiste perché è o è l'asso di picche che è nero altrimenti l'asso di cuori è rosso no come se lui si fosse prefisso un progetto di diciamo così di integrazione delle esperienze per arrivare a creare un qualcosa di nuovo però questo percorso per fare tutto questo avviene un po in solitudine davide è una perla sì questa è la causa esoterica del aver approvato grande armonia imperturbabilità e mille altre cose belle durante la visione dopo la visione di macchina del tempo sessione 1531 dunque lui è il protagonista di questa sessione che è Tommy io li vedo come dei gemelli astrali hanno una costituzione energetica molto molto simile adesso mi mostra un campo bordato di rosa che è veramente molto affine sono entrambe perle e poi vedo che non so in che senso hanno in comune il numero 5 è come se si fossero anche attratti magneticamente anche attraverso questo numero 1531 infatti il 5 lì è in mezzo e poi anche gli altri numeri 1531 se li sommi viene di nuovo 5 chiede i due il 5 e chiede il 2 1 3 1 aspetta un attimo perché anche oggi è 5 o no no il 2 oggi no 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 sì il totale ah giusto giusto 4 2024 e quindi sì è giusto 8 più 6 fa 14 fa 5 14 e 5 sì 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 ok tu hai monica hai a che fare hai avuto a che fare in altre vite con davide mi fa vedere questa tra l'altro un po bizzarro no perché mi fa vedere proprio come una vita parallela in cui lui è vabbè tanto io l'ho detto tante volte no che abito a torino non c'è problema no? e insegna in questa scuola di magia qui a torino e io vado a seguire una di queste serate io con lui mi mostra una corda tipo che fate un'intera vita insieme nel senso che vi vedo da bambini giocare saltando la corda poi è tipo più grandi adolescenti ancora con questa corda e la tirate in un senso la direzione opposta sia esatto a squadre e poi avanti dentro questa vita con la corda non lo so c'è qualcuno che utilizza la corda per togliersi la vita ma non è uno di voi due causa esoterica monica dei colori verde e rosso che indossa davide adesso e guarda proprio il l'elemento tra inante in davide è il cuore senza dubbio proprio senza dubbio e un altro elemento essenziale nella sua vita è proprio il verde inteso come natura tra l'altro uno dei colori del cuore inteso energeticamente verde lì il suo cuore è un tutt'uno proprio con la natura causa esoterica della voglia di andare a vivere fare un'esperienza non vivere in Finlandia allora lì me l'ha data per non so mi fa vedere tipo come fosse un bosco molto fitto no quindi quando mi fa vedere un verde molto intenso e anche il buio come se lui fosse in grado di portare la luce dove c'è il buio e poi allo stesso tempo rispetto alle parole cioè ha scelto una lingua molto difficile che da un lato è facile perché si legge esattamente com'è cioè non è complesso come l'inglese che ci sono proprio si legge così com'è è molto lungo molto complesso per noi molto difficile anche no da pronunciare però è proprio come se lui in questo amore che ha per il suono e per la parola riuscisse a giocare magicamente a parte che io vedo che lui riuscirà a imparare anche velocemente questa lingua perché va lì? solo per sperimentare la sua curiosità che adesso analizzeremo legata alle parole c'è proprio anche un'esperienza non so perché con il buio con il buio con ciò che è non so stretto e buio mi viene da dirti stretto e buio legnoso anche come se lui in realtà potesse portare sempre la luce ovunque anche in luoghi simili è proprio come se la gente si renderà conto che lui porta la luce viene da dirti come parola bagliore lui un bagliore andiamo in un bosco in Finlandia tutte e tre insieme in eterico andiamo lì lui si è trasformato tipo in un elfo quando l'hai detto no? quindi gli sono proprio venute queste orecchie appuntite che è come se in un certo senso lo aiutassero ad avere delle antenne per cogliere meglio anche i suoni del bosco beh lui ha i colori indossa i colori dell'elfo sì e lui ci sta molto bene dentro un bosco e vedo che si è anche rimpicciolito noi siamo rimasti più o meno così forse un pochino più piccoli però lui proprio piccolo piccolo è giorno e notte è che c'è un bosco molto fitto no? quindi sembra sera ma non è sera no e chi arriva? che succede? lui è diventato piccolo sì lui è diventato piccolo e vedo che saltella nel senso che magari non si muove no? come si potrebbe muovere un umano normale quindi riesce a spiccare diciamo il volo a saltellare così e vedo che come se queste orecchie che ha facessero scusa da antenna e da traduttore anche come se lui riuscisse a tradurre i suoni dei fili d'erba del muschio dell'acqua che sgocciola e anche i rumori sottoterra lui li riesce a percepire e a tradurre a noi e anticipa l'arrivo di alcuni animali già sa che stanno per arrivare dietro alle sue spalle lui che è adesso all'esterno è passato un cane no? il tuo cane penso no? non è il tuo cane un cane che passava così che sembrava anche un cinghiale volendo da lontano ma è un cane mentre tu dicevi questo bene non c'è qualcuno del popolo del bosco che vuole venire a dirci qualcosa lì in un bosco in Finlandia dove è nato il più o meno in Scandinavia il mito di Babbo Natale che vabbè sappiamo essere ma comunque il mito di no Babbo Natale lasciamolo perdere il mito degli ignomi degli abitanti del bosco c'è una radice che sbuca fuori da terra e dice chi ha orecchie per intendere intenda e vedo c'è Davide con queste sue orecchie da elfo che si appoggia con l'orecchio in terra e riesce a percepire i suoni che provengono all'interno del tronco dell'albero ed è come se all'interno ci fosse una festa traduciamola in parole questi suoni traduciamoli in parole esiste un mondo sottile gentile e compassionevole che ama la vita in ogni istante ed è tutto un canto un ballo tu dove sei in questa scena Monica? in questa scena anch'io sono riuscita a diventare più piccola e ho tipo delle ali e quindi sto volando intorno a dei fiori ok io vorrei invece scendere sotto terra come se prendessi un mini ascensore e andiamo un po' giù a vedere le case è come se ti facesse vedere un ognomo che puoi prendere questa scaletta e ti fa vedere questa scaletta e ti porta a vedere delle stanze con le lucine si gialle si è giallo caldo si molto caldo ci sono le cucine ci sono gli ignomi e le gnome si è così ci sono i pentoloni si i vestoli io stavo vedendo c'è sempre un pentolone che bolla in cui vuole qualcosa va bene gli lasciamo un dono io lascio una mela rossa e lui ti lascia una pepita d'oro tu cosa lasci se vuoi Monica? penso che sia non lo so una noce mi sembra cosa ricevi? una specie di collana di fiori e Davide cosa lascia? Davide lascia questa carta che questa volta è l'asso di cuori e loro la utilizzano come se fosse un quadro da appendere e gli lasciano una piuma azzurra, bianca azzurra torniamo torniamo di qua causa esoterica dell'essere estremamente selettivo millennium? millennium sì e poi è in un certo senso anche inevitabile perché comunque lui ha delle caratteristiche dei valori molto diversi dai suoi coetanei e dalle persone in generale che lo circondano e quindi a volte lui si sforza di andare sotto le proprie caratteristiche però riesce a starci solo per un certo periodo poi dopo non ci sta più bene Davide e le capacità mediane che siamo a 10.7 prima sessione 23 anni potevo dire l'età? telecinesi lettura del pensiero queste sono quelle su cui si sta esercitando senza grossi risultati dimmi quello che vedi una tecnica proprio per luce che poi è una tecnica nota ok però non è che chiaramente può essere attuata da tutti perché per alcuni è troppo difficile però che lui io l'ho visto che la faceva ed è proprio la contemplazione della fiamma della candela diciamo così che lui che cosa fa? va direttamente al sodo in questo momento invece è come se dovesse fare un passo indietro per prepararsi per riuscire a condensare la sua concentrazione per cui prende questa candela bianco azzurra come piace a lui se la mette davanti che può essere tipo 30 o 50 centimetri no? in modo che la candela sia all'altezza del suo sguardo la accende con un fiammifero e va a guardare la parte finale dello stoppino che in questo momento ovviamente sarà nero questo lo può fare diciamo che agli inizi secondo me due minuti è già tanto tenendo gli occhi aperti chiude gli occhi sullo stoppino sulla parte finale proprio dello stoppino la parte più bassa più alta più alta più alta verso la fiamma due minuti guarda possibilmente senza chiudere gli occhi chiude gli occhi dopo questi due minuti che poi nel tempo potranno diventare tre minuti eh cinque minuti chiude e continua a immaginare questa fiamma che ha visto ovviamente sopraggiungeranno dei pensieri magari altre immagini ovviamente deve farli scorrere e ritornare alla visualizzazione di quella fiamma lì questo lo può fare per un periodo di due settimane senza fare niente di queste esercitazioni che sta facendo ora ok? non le fa fa solo questo tutti i giorni questo poi dopo queste due settimane riprende a fare i suoi esercizi anche se io personalmente l'ho visto con un mazzo di carte a vederle occhi chiusi vederle coperte sì imparare qual è l'energia del rosso imparare qual è l'energia del nero qual è l'energia dei semi qual è l'energia dei numeri perché ovviamente anche senza vederli si percepisce un'energia diversa all'inizio semplicemente anche solo capire se è rosso se è nero poi se è una figura oppure se sono dei numeri e poi mano a mano no? che seme è e che numero è e per quanto riguarda la telecinesi io vedo che lui ci riesce ma non ha il chiuso in casa all'aperto la candela all'aperto o al chiuso? no la candela al chiuso più o meno buio cioè non dico totale buio no? nessuna luce elettrica accesa? no e la sera quindi? o se vuole chiudere le imposte fare insomma no? buio nella stanza ok questo vale per tutti o solo per Davide questi esercizi? chiunque ci si può cimentare si renderà conto di quanto è complesso va bene molto molto interessante questa sessione di oggi allora c'è un punto che è molto interessante di Davide 23 anni si chiede il valore che cosa sono le parole? le parole hanno un suono e hanno una grafia hanno una vibrazione lui intuisce che sono connesse all'anima la ps parte subliminale come usarle in maniera più consapevole e soprattutto cosa sono le parole? aiuto allora più o meno ho sentito quello che mi hai detto ma non benissimo perché mentre tu parlavi c'era la canzone di Samuele Berfani le mie parole che è un capolavoro e che rende proprio l'idea di queste connessione che Davide ha con le parole le parole proprio come se fossero quasi degli oggetti che possedessero proprio una concretezza oltre che una carica vibrazionale adesso Davide tipo mi ha mostrato come una di quelle cassette di ferro degli attrezzi mi fa vedere come le parole possono essere questi attrezzi anche magici non per forza degli attrezzi realmente esistenti che servono a creare la realtà Davide da mago ha proprio capito il senso di abracadabra con le parole io creo lui è veramente un mago questa sua delicatissima timidezza paradossalmente lo aiuta perché gli fa scegliere le parole con più accuratezza gli fa mettere le mani dentro questa cassetta degli attrezzi e scegliere più lentamente per esempio vedo che estrae l'attrezzo parola l'attrezzo parola deviazione l'attrezzo parola errore e mi fa vedere come questi attrezzi sono in un certo senso accartocciati su loro stessi chiusi impotenti da questa cassetta degli attrezzi trae la parola non so mi viene semaforo verde bagliore e questi invece sono come espansi come se fossero multidimensionali e poi mi fa vedere quando eravamo andati prima nel bosco e mi dice che tutto ha parola e anche il fiore ha una parola la formica ha una parola loro parlano e nel loro linguaggio sono puliti ed essenziali ed è come se lui ispirasse a loro nella scelta delle parole lui ispirasse il popolo del bosco il contrario il popolo del bosco ispira Davide sì vediamole alcune parole ispirazione sentimento mi viene amore compassionevole sole beltà mi viene anzi che bellezza viene beltà meraviglia mira mira ci aguarda sì è grandioso viola è cima è gradevole considerazione dignità 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 ok bene qual è la parola con la vibrazione più alta non so adesso mi è venuto benedizione forse proprio perché è ovviamente non è da intendersi in senso religioso infatti viene usata in quell'ambito proprio perché è molto potente no proprio come dire bene quella con la vibrazione più bassa mi viene cagliostro non so perché quella con la vibrazione più costruttiva cioè mi spiego volontà mi spiego quella che ti fa venire le farfalle nello stomaco all'alba di un progetto un po' la situazione di davide no tra due mesi parte è venuto potenza potenzialità vivere anche è venuto vivere monica nonni portale aureo gioia viene proprio gioia quando dici nonni mi viene gioia è come se fossero molto divertiti quasi anche loro appartenessero a queste creature danzanti no che volano li vedo anche loro come se fossero piccolini no non so c'è c'è commozione gioiosa Davide non vuole per forza un messaggio quindi siano liberi di dire e fare quello che vogliono dove sono come se fossero appunto tra virgolette degli insetti dei piccoli uccelli dei colibri quasi no che svolazzano a volte sopra il tetto della sua casa quasi cinguettando erano già nel portale aureo o l'avevano visto io come faccio a dire questa cosa che è come se fossero parte del cosmo parte del cosmo e avevano già visto il portale aureo sì si rivolgono a Davide con un gesto un inchino un ringraziamento bevi il nettare della vita e vedo che è come se facessero scorrere dall'alto questo fluido che sembra un po' rugiada ma è dolce e Davide apre la bocca per prenderlo come se in un certo senso lui fosse il passerotto no loro gli uccelli più grandi che gli danno questo nutrimento li salutiamo se vogliono possono andare se no possono anche mi sa trovarsela da sola da soli la strada considerando il livello che hai descritto sì vanno via cinguettando il nostro nido è ovunque cinema apribile all'inizio durante o anche alla fine della sessione non cambia nulla genitori sì è come se arrivasse proprio un'ondata di amorevolezza un'amorevolezza semplice per certi aspetti un po' basica però amorevolezza fratello sì due sorelle una più autonoma o una un po' meno sì 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 quella un po' meno autonoma è come se stendesse le braccia no? per volerlo abbracciare al più presto e farsi anche un po' prendere in braccio in un certo senso amici sì un gruppo anche eterogeneo perché è come se alcuni fossero magari non così amici stretti ma sentissero la fortissima carica energetica di Davide per cui a tratti necessariamente sono coinvolti anche quasi contro la loro volontà c'è anche una ragazza come se fosse un po' un po' anche invaghita di lui non so dove si mette? dove si siede? no in mezzo agli altri amici non vuole dare troppo lei nell'occhio beh chiamiamo gli altri amici di Davide quelli del bosco assolutamente tantissimi miliardi chiamiamo le parole sì le parole e viene proprio il suono la melodia anche è come se venisse la parola a baraccetto del suono e mi facessero notare che il suono della voce di Davide è appropriato per creare magie chiamiamo tutti quelli con cui lui ha avuto delle vite parallele certo chiamiamo le sue capacità medianiche future e attuali sì certo esiste una teoria dei sette anni ogni sette anni c'è un grande cambiamento quindi Davide ne ha 23 ha già passato il 21 chiamiamo un po' di Davide futuri possibili giochiamo col gran mago si può chiamiamo il Davide dei 28 anni dei 35 dei 42 dei 49 e dei 56 è un po' difficile perché è come se per ogni tappa che mi hai detto me ne vengono tanti non ne vedo uno solo quando mi hai detto 49 per esempio è arrivato sia un padre con tre figli sia tipo un musicista un insegnante però è lo stesso più o meno è esatto più o meno consapevolezze differenti e consapevolezze un po' differenti e scelte differenti come dirti seguire inclinazioni profonde differenti quello di 42 allora uno ha lo zaino in spalla e vedo proprio che fa tipo on the road una vita molto libera non so forse c'è anche un cane quindi viaggiano il mondo insieme con varie tappe così un altro è ritornato nella sua terra d'origine e vive non distante dalla famiglia e ha molti contatti frequenti con la famiglia un altro un altro lo vede in Irlanda sempre un po' immerso in una paesaggio molto naturale non vicino alla città tantissimi Davide e accomuna la PS certo la giocherellona sì chiediamole cosa stiamo facendo qui oggi per Davide i valori sono da fine sessione a inizio sessione le entità eteriche fanno ridere impianti anche elementali sono bazzecole cosa facciamo qui oggi in una parola danziamo la vita con meraviglia e stupore davide vuole una domanda non solo un messaggio una domanda che non ha risposta che non ha risposta la risposta la troverà lui chi sono io bene 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 sto battendo le mani io per la felicità bene 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 e cosa facciamo adesso lo chiediamo a PSP e di Davide sì la formalità la formalità sarebbe di andare al cluster poi adesso li chiude gli occhi li riapre e l'ha fatta eh sì sì è già fatta sì davanti ho una singolare linea di nuvolette sembrano anche abbastanza vere sono sette ma raggruppate in due quattro e una anzi uno quattro due sette lasciamo perdere o ha un senso almeno con Davide allora è di nuovo partito dal cinque mi fa vedere che è tre più due e poi aggiungi due e arrivi a sette è come se lui in questo suo gioco perché lui danza lui è un mago e vedo che gioca con le parole e gioca con i numeri e in un certo senso è come in base anche al progetto che abbiamo visto lui crea qualcosa di nuovo e quindi si dice che il ciclo per i cambiamenti è di sette anni io lo posso far diventare di cinque o di tre o di due o di quattro o di due o di uno come tu hai visto i raggruppamenti il mago fa quello che vuole non ci sono regole esatto cluster vuoto mi aveva dato un'immagine molto singolare che non so neanche come si chiami sembra una di queste costruzioni che ci sono nel medio oriente che sembrano quasi un cono gelato sopra nella parte alta costruzioni sì ma tipo abelisco no sì perché l'ho vista tipo come se fosse una torre e però appunto che finiva con questa parte una sfera sferica un fetto di gelato una fiaccola esatto le ha tolte sì sì assolutamente le lascia vuoto il suo cluster o il mago estrae una carta il mago ha in mano questa bacchetta e puntando la bacchetta e puntando la bacchetta vedo che viene proprio una ad eternum diciamo così spiraliforme formato da tantissime carte da gioco avatar è libero sì nel senso che si completamente vuota la stanza sì non so aveva lasciato tipo un quadrifoglio un po' appassito era come se volesse dire la fortuna me la creo io non è un qualcosa di esterno che genera la mia fortuna impianti no c'era solo questo qui e ora non c'è più questa spina assi di cuori nero esiste ancora il progetto no non c'è più uno no cosa c'è al suo posto chi sono io? sì c'è chi sono io ed è come se dietro chi sono io ci fossero tutti gli assi e nel frattempo Davide ne sta creando un altro ancora di sua invenzione un altro asso di colore e seme inventati sì sì esatto bene festa finale nel cinema ci sono le parole ci sono i Davide futuri gli amici i famigliari il popolo del bosco una grande festa togliamo il tetto al cinema in modo che tutti possano sentire vedere le luci la musica che musica c'è? in realtà è come se fosse un coro cantato dalla natura sento quasi anche il sole che può cantare il sole gli uccelli il vento una cascata che canta e Davide e tutti quanti i presenti al cinema che vedo che tra l'altro molti di loro sono anche usciti si sono distribuiti nel paesaggio circostante e suonano degli strumenti ovviamente inventati chi suona un filo d'erba chi un ramo Davide conosce le varie creazioni che abbiamo avuto creato insomma in questi mesi anni la D'Eternum la Vic la Veritas si le ha rielaborate le ha utilizzate le ha personalizzate si vedo che da buon mago è come se mettesse la mano dentro il suo cilindro cappello cilindro e tira fuori per esempio verba magica quindi queste parole magiche che utilizza proprio come se fossero una polverina magica in grado di trasformare esattamente come una polverina magica verba magica vuol dire parole magiche in latino si si qualunque se siano si pronunciate da lui in una certa maniera quasi anche un po' quasi cantando gli riesce a imprimere quella vibrazione che potenza ulteriormente la vibrazione della parola stessa quali dice per esempio matrimonio si crea come un matrimonio tra la sua voce e la parola allora dice creazione futura però futura come se fosse in latino delle cose che verranno poi dice ghirlanda correre poi mi dice sempre valido virtù virtute virtude comunicazione bagno bagno d'amore abbaio come se anche i versi degli animali rappresentassero una magia mamma bingo come se trasformasse questo gioco che di per sé è molto pesante molto interferito e gli desse una nuova veste carillon nonni minoranze mi viene anche come se le portasse verso di sé queste tra virgolette minoranze e gli fa le facesse crescere elevare è una minoranza sono le altre perle chiamiamole nel cinema Tommy ovviamente c'è e ci sono anche dei dei bimbi quindi sono più giovani di loro due ed effettivamente c'è tantissima gente nel cinema eppure loro si riconoscono immediatamente non devono neanche cercarsi fra la folla incontrerà delle fiamme nella sua vita Davide allora mi fa vedere tanti sodalizi vitali proprio degli agganci molto forti e arricchenti però è come se volesse la fiamma averla più avanti e non mi ricordo cosa ti ho chiesto ho chiesto fiamma o perle hai visto perle no? ok adesso fiamma mi hai chiesto sì ok volevo dire perle non so perché ho detto fiamma ok bene 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 messaggio finale dell'anima la domanda ce l'ha già voleva anche la domanda no? chi sono io? messaggio finale la vita è un kaleidoscopio di sorprese e tu continui a girare questo kaleidoscopio vedi nuovi colori e nuove forme e sei nella meraviglia assoluta nuova vibrazione da 69 a? 10.300 nuova consapevolezza da 176 a? 239 nuova anima da 58 a? più o meno uguale 61 vite 2014 1761 capacità medianiche percentuali di cervello simbolica utilizzata 10,7 mai venuto 13 e mezzo suscettibilità ipnotica variabile adesso 89 servirebbe a davide fare una sessione diretta dopo la finlandia non prima ma ha da aiuto del viaggio per vedere no no chiedo chiedo per vedere delle cose tutto può essere ovviamente sì certo immagine finale di tutto di davide del cinema di noi delle perle vedo davide che cammina tipo come se fosse a mezzo metro di distanza sopra qualunque cosa vedo per esempio che cammina sopra il mio passato sopra il tuo passato ed è come se quando cammina sopra il nostro passato è noi e poi cammina sopra il proprio passato e sopra il passato dei suoi familiari e ogni volta che fa questa camminata è come se lui si alzasse ulteriormente verso la sorgente verso una maggiore consapevolezza quindi utilizza le nostre le esperienze degli altri un po più come se fosse già un 1 è vero così una piccola curiosità oggi l'abbiamo detto prima no è il 2 aprile 2024 sempre da anni sentiamo strombazzamenti di eclissi eclissi di sole eclissi di luna fine del mondo però effettivamente questo momento un po particolare lotto è prevista l'eclissi di luna lotto si leggono come sempre grandi cambiamenti sconvolgimenti bene che fanno le perle a questo proposito con capofila davide non di luna lotto è di sole allora mi mostrano una clessidra che ha forma di otto e mi fanno vedere e mi fanno vedere che lotto è il mondo visibile e il mondo invisibile che sono speculari e mi mostrano queste perle come sono in grado di far girare ruotare questa clessidra questo otto in modo tale che le regole che caratterizzano diciamo così due mondi il mondo materico e il mondo invisibile siano maggiormente allineati con la sorgente adesso non lo sono non tanto giriamolo allora e allineiamolo intanto l'immagine come molto bello e molto forte da sentire questa cosa immagine di davide scomparsa da qualche secondo non so perché ma abbiamo finito parola finale amore amore ok io rido disconnettiti da tutto e tutti e torniamo